All'hotel Principe di Piemonte si è svolta la 33esima edizione del premio Vareggio Sporta Gherardo Gioè, sempre numerosi i premiati da parte degli organizzatori, tra questi Elena Pirrone, bicampionessa mondiale di ciclismo. È una grande emozione, una gara ho cercata, una vittoria cercata e è una vittoria che mi porta a grandi soddisfazioni. Profetti in patria, Andrea Galzoli, direttore generale della Spalla. Fa piacere tornare e prenderlo anche da dirigente, è chiaro che molti dei meriti in questo momento qui vanno alla spalla. È Andrea Masiello, difensore centrale dell'Atalanta. Importante andare bene, fare quello che sto facendo con l'Atalanta, che è la cosa più importante, trovarsi sempre pronti, mettersi a disposizione dei miei compagni. Un affezionato del premio è anche Alessandro Bonana, collega di Sky. A Viareggio state bene, devo dire che a Viareggio state meglio che da altre parti d'Italia e non di qualche. La Fiorentina ti fa un po' soffrire? La Fiorentina è una squadra un po' malinconica, devo dire la verità. È una squadra che trasmette un po' malinconia, è in una fase, diciamo, è in un interregno, come si dice, non è né carne né pesce. Gli onori di casa li ha fatti il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro. Un premio che porta il nome della nostra città e un premio che non premia solo lo sport, ma le persone.